Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info Quando le giornate si fanno più lunghe, il sole scalda e la temperatura si fa più umite, cresce la voglia di gelato. E allora, sentite. Sulla scia della giornata europea del gelato artigianale, che annualmente si celebra a fine marzo, i gelatieri di Confartigianato Vicenza hanno promosso un'iniziativa con la quale intendono valorizzare i loro prodotti e quindi sensibilizzare i consumatori sulle qualità del gelato artigianale, quelle prerogative che lo rendono così buono e nutriente. Il gelato artigianale è il miglior gelato per tutte le stagioni. Si caratterizza dall'uso di materie prime e fresche. La composizione nutrizionale e calorica è così equilibrata che poi si è utilizzato come alternativa ai pasti, addirittura nei giorni affossi, come sostituzione allo stesso. Il suo apporto proteico e di calcio fanno sì che possa essere utilizzato nelle diete equilibrate e pure quelle dimagranti. Ed è un'ottima merenda per i bambini. Come resistere? E allora non perdete questa occasione. Con un gruppo di gelatieri del Confartigianato Vicenza abbiamo organizzato un progetto promozionale. Le gelaterie che hanno aderito sono una trentina che offriranno un gelato omaggio da due palline con ocopeta ai clienti che si presenteranno con un tagliandino coupon che saranno stampate sulle pagine del Corriere del Veneto, il Gazzettino e il Giornale di Vicenza. Dal 31 marzo a 6 aprile recatevi quindi muniti dell'apposito tagliando in una delle 30 gelaterie che hanno aderito all'iniziativa, il cui elenco sarà pubblicato sempre il 30 marzo nei quotidiani locali. E buon gelato artigiano a tutti!